roccioso guarda quanta roba mamma che pescata pescata gigante vediamo 20 chili 20 kg e 70 gigante no no per dire no per dire no a che bestie a che bestie oggi una grande pescata laghetto spettacolare oro oro potato per me per forza però è stato bello roccioso 20 chili e 70 la rubagena ha tremato ha vibrato guardala lì stanca esausta della giornata guardala non ce la fa più esausta però vi